Allora, se non sono stato abbastanza chiaro, consigliere Pasquinelli, è un nuovo ordine del giorno presentato da tutta l'opposizione. Ok? Ho chiesto di metterlo in votazione senza la dichiarazione di voto, è stato accettato, quindi adesso passiamo alla votazione. Apro la votazione. Chiudo la votazione. Chi è che manca? Consigliere Piano, prego, aspettiamo lei. Annulliamo questa votazione? Ci mancherebbe, prego. Apro la votazione. Chiudo la votazione. Non c'è l'immedia. Presenti e votanti, 23. Favorevoli, 8. Contrari, 15. Astenuti, 0. L'ordine del giorno è respinto. Grazie a tutti. Scusi, Presidente. Solo una domanda tecnica, una curiosità che faccio al Segretario. Ma come funziona nel caso in cui il Consiglio vota contro un ordine del giorno che poco prima era stato fatto proprio dal Sindaco? Una linea di modifica, una linea di modifica, è una linea di modifica, è una linea di modifica. Sono le 0 e 08, chiudo il Consiglio Comunale. Buonasera a tutti, grazie. 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 Grazie.